Allora, guardate, velocità bassa, le mani sono lontane, chiudi, veloce... Nel libro, di no, di no, di no, di no, apri, apri, ma ti faccio vedere dall'altra parte che se no ti gira la testa. Allora, guardate, velocità bassa, massa lontana, chiudi, velocità alta, massa vicina. Che cos'è questa? Il giramento di testa.